Eccomi di nuovo a voi. Nel 1438 venne appunto istituita quest'unità di misura che serviva come metro per la misurazione delle stoffe da parte dei mercanti e corrispondeva a 68,4 cm. Il simbolo della macia, che ricorda un candelabro a sette bracci, si trova scolpito in uno dei pilastri del Palazzo della Loggia. Spilimbergo, in provincia di Pordenone, è anche conosciuto come la città dei mosaici. Questa casa è ricamente affrescata, purtroppo non si riesce a vedere bene. Le finestre sono di stampo veneziano e ci sono delle scene di Rita Contavine. Grazie 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 Grazie